Attenzione, 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 Diag, Diag! Kiro! No! 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 Ancora pieno gli amici! Il palo ha colpito il palo di INAC! Ha colpito il palo! E viceversa torna se era battuto! Ha colpito il palo, Diag! Ha colpito il palo da solo! il suo diagonale sul palo ed era battuto vittorio Valdè ed era battuto ed era battuto neanche il palo